Oggi frittatine di pasta. Tagliamo a fette le melanzane. Ricaviamo delle strisce e successivamente dei cubetti. In una padella mettiamo olio e melanzane. Facciamo cuocere a coperchio chiuso salando. In un'altra un filo d'olio, aglio e peperoncino. Buttiamo il pomodoro e saliamo. Nel frattempo cuociamo la pasta un po' al dente. La scoliamo e la condiamo con pomodoro, melanzane e scamorza. Rompiamo le uova e aggiungiamo il parmigiano, pepe e sbattiamo con la forchetta. Un pizzico di sale e mettiamo gli spaghetti in degli stampi per muffin precedentemente unti. Infine l'uovo sbattuto sopra il parmigiano e lasciamo cuocere in forno a 170 gradi per 15 minuti. Et voilà, eccoli pronti!